Le persone che portano luce non hanno una vita perfetta e non nascondono la sofferenza, la trasformano. Quando c'è una persona che porta luce, tutta la realtà circostante si illumina e assume un aspetto diverso. Chi porta luce non manipola, non è invadente e non è egoista. Chi porta luce non lascia confusi o rattristati, ma usa le sue capacità per incoraggiare, sostenere, aiutare. Chi porta luce non ha una vita perfetta, ma sceglie consapevolmente di essere uno spirito costruttivo e non distruttivo. Sa raccogliere le cose nascoste nell'oscurità e le fa emergere. Prende il buio più profondo che trova dentro di sé e senza farsi travolgere, lo illumina. Per vederci chiaro. E a volte fa male. Ma preferiscono una chiara verità rispetto a una bugia nascosta. Le persone lucenti non nascondono la sofferenza, la trasformano. Decidono semplicemente di illuminare, perché sanno cosa significa brancolare nell'oscurità. Amo le persone di luce, sanno prenderti per mano e domandarti che ci fai ancora al buio.